ben trovati io sono fabio rosini e questa è la quarta puntata di una strana serie che abbiamo ma anche no che verte sulla abilità di sapere essere oggettivi saper stare nell'equilibrio rispetto alla realtà rispetto alla storia rispetto alla vita rispetto alle relazioni in effetti noi abbiamo il problema non piccolo di una tendenza alla polarizzazione interiore alla faziosità mentale per cui suddividiamo il mondo in buoni e cattivi suddividiamo le cose in vitale e mortale per una tendenza primordiale che è radicata nella parte più regondita del nostro cervello quella più antica quella più primitiva per cui noi abbiamo l'impulso della difesa di noi stessi della nostra incolumità e questa cosa diventa un'attitudine mentale che da bambini è il processo di scissione fra ciò che fa bene ciò che fa male e poi piano piano diventa un lungo cammino di equilibrio di recupero di una relazione oggettiva con la realtà che passa per atti e atteggiamenti che ci permettono di non essere scissi di non essere contrapposti di non essere inutilmente ansiosi rispetto a cose di cui dobbiamo avere meno paura e inutilmente faziosi nelle relazioni in questa tendenza che c'è molto forte nella cultura sociale soprattutto nelle comunicazioni di oggi per cui il mostro è ciò che rende coesa la società perché tutti quanti abbiamo la stessa persona da odiare crediamo di volerci bene su questa base quindi dacci oggi il nostro mostro quotidiano e continuiamo così in questo mondo fazioso e contrapposto ecco abbiamo visto nella seconda nella terza puntata di questo viaggio di questo è il quarto appuntamento due strumenti per essere oggettivi due strumenti per essere equilibrati e adulti e non infantili e primordiali il distacco e l'auto ironia il distacco è essenziale il distacco è ciò che permette di essere oggettivi sulle cose perché da vicino niente è visto per bene bisogna sempre guardare anche il contesto per capire il testo bisogna sempre guardare anche ciò che c'è intorno a qualcuno per capire questo qualcuno o questo qualcosa è quell'auto ironia che connette l'umorismo all'umiltà avendo queste due parole la stessa radice essendo quindi radicate in un atteggiamento che connesso con la verità con la realtà con l'humus con la terra con il reale chi è capace di auto ironia è una persona equilibrata chi non è capace di auto ironia è una persona che si prende troppo sul serio ed è una persona che probabilmente incorre nel rischio di essere poco oggettiva sulle cose perché poco disposta a guardare l'altro punto di vista all'altra prospettiva delle cose ecco che cosa affrontiamo in questa quarta puntata il tema di oggi è l'astinenza il tema di oggi sarà questa parte che in realtà diciamo così dopo aver visto che abbiamo bisogno di distacco abbiamo bisogno di un rapporto più oggettivo con noi stessi abbiamo bisogno di un come di questa cosa qui cioè non basta dire che bisogna essere distaccati dalle cose come ci si distacca dalle cose ecco la parola astinenza è molto interessante perché è l'atto di chi si astiene da qualcosa noi abbiamo un'idea dell'astinenza un po troppo penitenziale invece è una idea di cura di se stessi che implica una dieta da ciò che non è sano non è buono per noi e l'astinenza è sempre stata praticata e l'equilibrio e la sobrietà che è sempre stata praticata nella spiritualità cristiana come una via grande di oggettività dobbiamo pensare appunto ai testi sulla sobrietà che noi leggiamo normalmente nel prime domeniche di avvento e dove vediamo che di fronte a ciò che deve accadere l'importante non essere intontiti ecco noi siamo in una società che molto più che estetica e anestetica siamo profondamente intontiti rimbambolati dai sistemi comunicativi dalla quantità di messaggi che riceviamo dalla realtà di sistemi di domotiche di comfort che fanno sì che noi siamo distratti e poco lucidi sulle cose allora questa lucidità è molto importante per recepire tutte le cose che noi stiamo vivendo per non essere grossolani nel nostro approccio con la realtà e non disperderci con inutili e dannose distrazioni dobbiamo essere sobri appunto per questo dobbiamo astenerci da qualcosa dobbiamo saperci staccare da qualcosa appunto abbiamo parlato del distacco e ora parliamo dell'astinenza come via di questo di questa attitudine che abbiamo intitolato ma anche no che vuol dire proprio questa cosa qui ci sta qualche cosa di cui a cui si può dire di no e allora l'arte di dire di no astenersi da qualcosa è molto importante e questo è un combattimento vitale è quello della relativizzazione essenziale sia umanamente che cristianamente la tendenza prensile avida della nostra epoca c'è resi oberati e confusi dopo aver parlato di distacco e di autononia ora entriamo nella parte più operativa della verità la cui fatica implica distanza umiltà e rinuncia è il no di questo appunto di questa serie che cos'è l'astinenza per capire l'astinenza partiamo da alcune definizioni di scuola cioè scolastiche tradizionali l'astinenza è la parte soggettiva della temperanza ovvero sia la temperanza è una delle quattro virtù cardinali che santomaso definisce naturali cioè quelle virtù che noi come umanità li abbiamo come donat dotazione di bordo rimandiamo alla serie che abbiamo prodotto tanto tempo fa sulle quattro virtù cardinali per approfondire questo tema però appunto la temperanza noi consideriamo la parola temperino temperare che vuol dire mescolare o tagliare è la capacità di dire di no a qualcosa allora normalmente noi abbiamo una virtù della temperanza diciamo di no a tante cose se scegliamo di fare una cosa divertente rinunciamo a qualcosa che ci risulta noiosa ecco questa temperanza può essere esercita da bene o male ma c'è allora la parte soggettiva della temperanza e quel tipo di applicazione alla persona singola della virtù della temperanza essendo la temperanza una virtù naturale cioè una moderazione dell'inclinazione verso i piaceri soprattutto del gusto e del tatto che suddividono la temperanza in parti soggettive cioè l'astinenza e la sobrietà e la parte più etica ovvero sia la castità e il pudore quindi principalmente l'astinenza si applica alla gola ai cibi alle assunzioni e a tutto ciò che alimenta il corpo cioè qualcosa che ha a che fare con le nostre percezioni sensoriali in effetti se noi vogliamo fare un viaggio di oggettività abbiamo bisogno di vivere un tempo di purificazione dei sensi purificazione delle percezioni il corpo ha bisogno di vivere una sua sobrietà una astinenza cioè ci sono quelle cose che ci intontiscono e non sono idee sono percezioni sono assunzioni sono ricezioni sono cose che magari bere troppo mangiare troppo ci rende poco oggettivi secondo il dettame della ragione illuminata la fede questa astinenza diventa di due tipi ce n'è una naturale razionale che è sulla base delle necessità che insegna quella moderazione tipo che se stai male mangi in bianco perché capisci che è meglio che eviti di mangiare troppo perché non ti senti bene e c'è un'altra invece che è ispirata e infusa è un dono e tiene conto dell'ordine soprannaturale delle cose e delle necessità del bene cioè è quel tipo di attitudine per cui io so che ci sono cose che per un bene più grande per dono di dio per intuizione donata dallo spirito santo ricevisco ci sono delle cose che per quanto in sé non sono cattive però compromettono la mia capacità di essere sintonizzato con il grande bene con il vero bene quello altro allora l'atto proprio dell'astinenza principalmente il digiuno che spesso è ricola regolato dalla dalle nostre abitudini liturgiche cioè noi abbiamo dei momenti di digiuno durante l'anno abbiamo delle scansioni che ci danno queste buone abitudini di sobrietà di distacco di recupero della lucidità per mezzo del ritmo liturgico ecco per quanto questo tipo di linguaggio adesso sia abbastanza indisuso perché noi abbiamo questo assoluto del benessere questa assolutazione del benessere il benessere sarebbe la condizione per valutare bene le cose e invece no il benessere molto spesso diventa un padrone esigente che rende stupidi e rende desintonizzati con dalla percezione e torpidisce i cinque sensi il benessere il piacere il comfort diventano il nostro nemico numero uno per quanto riguarda una capacità di raggiungere grandi cose nella vita se un giovane non rinuncia mai a una voglia di divertimento a un comfort a una comodità a un piacere non raggiungerà mai la meta dei suoi studi non raggiungerà mai la meta del suo lavoro e non arriverà mai a crescere diventare un adulto resterà un bambino un poppante che deve costantemente consolarsi con i suoi appetiti è interessante notare che è resta sempre fondamentale per praticare la giusta astinenza la virtù che è lauriga virtutum cioè che lauriga e il cocchiere di tutte le virtù che è la prudenza prudenza ricordiamo da previdenza cioè vedere prima è quella cosa per cui io guardo sempre l'obiettivo mi ricordo sempre che ho uno scopo da raggiungere e in vista di questo scopo rifaccio delle rinunce come un atleta dice san paolo che per raggiungere la vittoria in una gara si sottopone a fatiche si sottopone a rinunce a digiuni a esercizi a subietà di vita piuttosto seria ecco tanto più noi che raggiungiamo delle mete molto grandi che sono l'amore che sono la unione con dio che sono la grandezza di una vita nobile vera autentica abbiamo bisogno di istruire con questa previdenza con questo guardare l'obiettivo la capacità di dire di no di praticare l'astinenza soprattutto dagli appetiti dalle cose che sono tendenzialmente intossicanti tendenzialmente totalizzanti perché appunto stordendo il corpo con il piacere danno schiavitù danno dipendenza penso che sia opportuno fare a questo punto una riflessione tutto quello che stiamo dicendo quanto differenzia da un'istruzione che potremmo ricevere da un personal trainer da un coach che ci dice come gestirci meglio ecco tutto questo perché lo riceviamo dalla radio vaticana perché lo facciamo all'interno di un percorso sulla spiritualità cristiana perché questa nostra astinenza può essere molto mal finalizzata come appunto nell'esempio dell'atleta secondo san paolo cioè non mal finalizzata banalmente finalizzata cioè semplicemente per una corona corruttibile come dice san paolo una cosa che vale poco ecco noi abbiamo due tipi di astinenze di cui ci dobbiamo fare l'elenco consiglio gli ascoltatori di farsi un elenco di buone astinenze le cose che fa bene non praticare quelle cose da lasciare che sappiamo quando stiamo in difficoltà dobbiamo toglierci delle cose ecco dobbiamo prima farci un elenco di astinenze naturali che sono generalmente auto evidenti sullo stile del cibo sul sonno sulla capacità di essere disponibili con le relazioni spegnere il telefono quanto più possibile per non essere intontiti dalle comunicazioni sono tutte cose che non c'è bisogno di un cristiano per saperle basta un uomo che sappia un pochino provare a vivere sul serio ma ci sono invece le astinenze di tipo soprannaturale non nel senso che sono cose che vengono come una irruzione del soprannaturale sopra irrazionale no sono relazionali a cristo cioè c'è cristo di mezzo difendono la nostra missione e la nostra vita di figli di dio tutto ciò che è necessario lasciare perché io possa vivere la mia vita di figlio di dio noi possiamo vedere questo nel primo capitolo del vangelo di marco quando cristo dopo una giornata di successi pastorali all'alba si alza e va a pregare e lo trova pietro che lo va cercando perché appunto lo stanno cercando tutti perché ha avuto grande successo visto che ha fatto tanti miracoli e gli dice tutti ricercano e sant'agostino dice che questa è la voce della tentazione la tentazione del successo tutti ricercano e allora andiamo avanti così e allora stiamo vendendo tanto allora continuiamo con questo prodotto e invece gesù che si sta rialzando da un tempo di preghiera di solitudine con il padre e dice bisogna che io vada altrove perché io predichi anche là il vangelo cioè non si ferma al successo ma va all'altrove sa rinunciare un momento comodo momento di appagamento momento di riscontro per andare verso una cosa più grande l'annunziare la buona novella altrove molto spesso per fare il bene bisogna rinunciare a qualcosa che sembra buono qui dobbiamo considerare una cosa nell'astinenza non si sceglie fra il bene e il male chi fra il bene e il male sceglie il male è semplicemente stupido il vero discernimento nella vita non è mai fra il bene il male il vero discernimento è fra il bene e il bene quello vero e quello falso perché c'è il bene profondo e il bene superficiale il bene immediato e il bene duraturo c'è qualcosa che dura che ha serietà che ha valore per cui va sacrificato qualcosa e qualcosa che è semplicemente una soluzione occasionale da quattro soldi che dura quel che dura vale quel che vale ecco bisogna staccarsi dal bene falso per legarsi al bene vero e qui gesù ha fatto tanti miracoli ha fatto delle cose buone ma smette di fare quelle cose buone ma come non è una cosa bella e buona che continui a fare miracoli a cafarno cafarno la città dei miracoli e questo possiamo fare mettere su anche una ditta per fare una cosa di questo genere ecco a casa di pietro visto che ce l'ha già un sistema di commercio visto che pescatore e allora qui si vendono miracoli e si fanno cose buone no si mette su uno studio medico per la cura degli incurabili e via dicendo e invece no gesù deve andare altrove quante volte sembra assurdo ciò che dio ci chiede perché ci sembra che comprometta qualcosa di buono comprometta qualcosa di non rinunciabile secondo la nostra assolutizzazione di un bene magari ricevuto ecco il bene che dio ci vuole dare è sempre più grande di quello che ci sta dando dio ci sta sempre chiamando a qualcosa di più pensiamo alla morte la morte sarà la più grande delle tragedie ma ci consegnerà il più grande dei beni il regno dei cieli noi arriveremo alla pienezza e quante volte nella vita abbiamo sperimentato che perdendo un benessere perdendo uno stato di salute siamo entrati in un tempo di malattia chi parla personalmente lo ha sperimentato tante volte e per arrivare a una dimensione più alta cioè la provvidenza ci portava qualcosa di più grande che implicava il passaggio per la malattia e mentre nessuno comprometterebbe razionalmente la salute di qualcun altro ecco dio lo fa con noi molto spesso ci fa passare un tempo di tribolazione un tempo in cui siamo lontani dal benessere per portarci una dimensione più adulta più grande più bella è questo uno dei misteri della croce di cristo un grande dolore per la grande salvezza dell'umanità ecco questo vale di più quindi gesù deve andare altrove devi dire di no a cafarno per portarsi lì dove c'è la missione fino al grande bene che ci riguarda tutti pensiamo se gesù cristo si fosse fermato all'esercizio di quel bene che poteva praticare a cafarno non sarebbe arrivato fino a noi sarebbe rimasto lì sarebbe rimasto incastrato in un bene ci si può incastrare in una cosa buona sì si può restare incapsulati e intontiti da una cosa buona fino ad assolutizzarla ma bisogna sempre sollevare lo sguardo lasciarsi portare all'oltre al di più e a un momento praticare il no cioè ma anche no veramente rispetto a un bene che c'è sempre qualcos'altro che ci sfugge c'è sempre qualcosa che dio sa di più gesù parsa un tempo di preghiera e sa rinunciare a un bene per andare un bene molto più grande ecco questo siamo chiamati a vivere ma qual è la arte di questa realtà avviciniamoci all'ultima parte della trasmissione per capire meglio come si pratica come si sceglie come si entra concretamente nell'astinenza nella scelta del vero bene per capire la prassi dell'astinenza dobbiamo capire l'atto tipico dell'astinenza che appunto accennavamo è il digiuno vediamo un pochino il digiuno come lo legge gesù cristo come il vangelo di marco lo stesso vangelo che ci ha mostrato gesù che rinuncia a cafarnao per andare negli altri villaggi per andare annunziare il vangelo perché per quello è venuto nel capitolo secondo subito dopo appunto nello stesso vangelo di marco c'è un momento in cui si parla del digiuno perché i discepoli di giovanni dei farisei stanno facendo un digiuno c'erano varie prassi appunto di digiuno nella spiritualità ebraica e come succede spesso quando si fa qualcosa di buono si pretende che gli altri pure la facciano e così succede che siccome i discepoli di giovanni e i discepoli dei farisei stanno facendo un digiuno vengono da gesù e si lamentano che i suoi discepoli invece stanno mangiando e c'è un po di invidia in questo discorso qui allora c'è la domanda appunto siamo in marco 2 18 perché i discepoli di giovanni e discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano gesù disse loro possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto allora in quel giorno digiuneranno nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio altrimenti il trap top nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi altrimenti il vino spaccherà gli altri e si perdono vino e otri ma vino nuovo in otri nuovi ecco questo meraviglioso testo di marco ci pone di fronte alla prospettiva completamente diversa rispetto al digiuno mentre i discepoli di giovanni e i farisei digiunano a scansione regolare un paio di volte a settimana grossomodo loro hanno l'appuntamento ecco questo è il momento questo è il giorno del digiuno qui si digiuna quindi è un esercizio che parte dalla realtà cronologica ed è un esercizio di perfezionismo personale è un esercizio individuale di purificazione buono quanto si vuole ma comunque finalizzato al proprio ego perché è l'arte di sentirsi più perfetti sentirsi più giusti più puri più santi più buoni è un problema con il proprio ego ecco gesù dice possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro finché hanno lo sposo non possono digiunare cioè passa da un principio di ordine personale di purificazione di perfezionismo a un principio relazionale cioè il vecchio che sempre collegato a ciò che nostra nostra prospettiva primaria naturale istintiva è una autodifesa del proprio benessere spirituale secondo una strategia autoimposta invece qui si tratta di stare con qualcuno non stare con qualcuno veramente gesù cristo è l'emmanuele il dio con noi che crea relazioni che crea connessioni con noi il problema è questo che i discepoli non possono digiunare perché stanno a nozze con lo sposo che è con loro e quando sarà loro strappato lo sposo dice il testo alla lettera quando sarà loro tolto lo sposo allora digiuneranno perché come digiuna chi perde qualcuno a cui tiene tantissimo possibile pensare di fare un banchetto il giorno dopo che ti è morto tuo padre non è possibile il giorno dopo che ti è morto qualcuno a cui vuoi tanto bene il più grande amico non hai voglia di mangiare perché perché le funzioni si annichiliscono di fronte alla perdita di qualcuno ecco è tutto un altro problema qui il tema è la relazione con il signore la nostra astinenza la nostra oggettività è ciò che mi fa stare con cristo oppure no quando qualcosa mi fa stare con cristo non mi faccio nessun problema a praticarla quando una cosa mi toglie cristo allora digiuno da quella mi astengo da quella realtà lì considerando che può essere anche una cosa buona ma mi intontisce mi toglie il bene mi toglie la connessione con il signore gesù stare con il signore avere il cuore visitato dalla sua grazia è questo il principio ordinatore della nostra astinenza iscriviti al canale iscriviti al canale